Grazie. Ma scusi signorina, perché così arrabbiata? Arrabbiata? Io? E non vuole neanche che le accenda la sigaretta. Mi dispiace che lei la prenda così. Sarò costretta ad avere dei rimorsi. Per me? Eccetto quando me ne starò comodamente seduto su quella terrazza ad ammirare il tramonto. Il rimorso di aver procurato un dispiacere diminuirà la mia felicità. Se fossi lei non mi darei pensiero per questo. Perché seduta su quella terrazza ad ammirare il tramonto ci sarò io. E le assicuro che lei non mi passerà neanche per la mente. Quattro, quattro e cinquanta. Cosa? E quella parete l'ho misurata prima io, quattro e cinquanta. Quella è più corta, quattro metri scarsi. Grazie a tutti.